Ora, noi riteniamo che innanzitutto questo disegno di legge di delega sia in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione. L'articolo 76 prevede chiaramente che il Parlamento può delegare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge ordinaria esclusivamente sulla base e con l'osservanza puntuale di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti. Quindi la delega deve contenere criteri molto stringenti e dettagliati, definiti e approvati dal Parlamento, cui il Governo deve attenersi rigorosamente.